Cantare voglio la valle resistente Ciao, sono Katia, sono di Lecce ma sono una studentessa del primo anno all'Università di Torino Oggi mi trovo al Presidio dei Mulini per sostenere una lotta che sin da piccola ha sempre visto un po' come la leggenda portata avanti dai grandi notav Oggi mi trovo qui al Presidio dei Mulini proprio insieme a loro a lottare insieme Per appunto difendere il territorio della Val di Susa per dimostrare che c'è un altro modo di vivere col territorio Con il territorio appunto e non sul territorio come ci dà la dimostrazione di quello che sta accadendo a pochi passi nel cantiere della Tav Una delle parole che meglio descrivono questa esperienza e che meglio descrivono appunto il movimento notav Secondo me è la collaborazione per cui ognuno di noi partecipa secondo le proprie capacità e con le proprie forze Dimostrando di avere tanta voglia di fare, tanta determinazione e tanta impavidità soprattutto Perché la cosa certa è che i notav non hanno mai paura Antare voglio la valle resistente